Oh 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 confined Mi presenterai a signora lo snaggancio delle ruote Per la leggera della casa si torna a veg'ana con giunte E di qualcosa è che signora i gentiitenciati E le persone che non tornerà domani A quando si contesa che la loro volta a mano che la porta è mirata anche nel quarto se ora sono soldi e i soldi sono roba liberare un'astrazione e un po' di capire una e penata di tempo Oggi quando sognuore e bene il cuore Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.